Tra i servizi offerti da Facebook anche quello di ricordare ogni giorno i compleanni. Ed è così che ieri la comunità virtuale ha festeggiato gli 85 anni del boss mafioso Totò Rina in carcere dal 93. Sulla pagina Facebook Totò Rina la storia 2, chiusa poi nel pomeriggio proprio a causa del clamore suscitato. Non sono stati pochi coloro che hanno deciso di fare gli auguri al padrino con messaggi di stima e di affetto. La pagina contava oltre 17.300 mi piace. Ecco alcuni dei messaggi. Auguri e lunga vita Uzzitotò. Tu e Binnu avreste sistemato parecchie cose oltre all'Isis. Salutammo. E ancora auguri 100 anni e a presto in libertà su Totò. Zio Totò baciamo le mani. Tanti auguri Zio Totò speriamo la tua libertà. Auguri Zio ti farei presidente della Repubblica. Ma non sono mancati i messaggi di sdegno. L'amministratore del gruppo aveva anche pensato di aggiornare la foto del profilo con la carta d'identità del boss e le sue generalità. Un'immagine che in pochi minuti aveva ottenuto 710 mi piace e 324 condivisioni.